Il tema sicurezza Sayone è molto sentito in queste settimane, per questo Confesercenti ha organizzato un incontro con i commercianti della zona. Sì, ci sembrava opportuno e giusto parlare con gli operatori economici che tutti i giorni comunque vivono in queste strade, in questo quartiere che è comunque un quartiere vivace in cui la rete commerciale è presente e attiva. È un quartiere che sta vivendo, abbiamo visto, un periodo di grossa difficoltà e riteniamo che la Confesercenti debba comunque parlarci, capire cosa possiamo fare anche in sostegno e comunque creare un momento di confronto civile e costruttivo. Appuntamento dove? L'appuntamento è domani venerdì alle 14.45 presso il Bar Maggi di Via Vittorio Veneto, abbiamo voluto creare questo appuntamento lì nel quartiere in modo che sia facile e possibile per tutti poter raggiungere la riunione. Che umore c'è per quello che è il vostro sentore? L'umore è abbastanza preoccupato, nel senso che comunque c'è la preoccupazione da una parte di vedere le istituzioni che comunque si rispondono e che comunque sono in polemica tra di loro e questo non è comunque bello, non è positivo e anzi credo che scoraggi perché di fronte a un problema grosso si vorrebbe magari un'alleanza tra chi ha il potere di fare delle cose importanti e comunque si vorrebbe una visione più comune. Dall'altra c'è la preoccupazione di vedere che oggettivamente è un periodo in cui gli episodi anche brutti ne stanno capitando un po' nel quotidiano e quindi c'è grossa preoccupazione.